È considerata dal bollettino ACI una delle strade più pericolose e con più incidenti stradali a livello nazionale. Stiamo parlando dell'SS 47 Valsugana, che dal Trentino arriva sino a Padova, passando per il Bassanese. Punto nero, Rosà, dove si crea un vero e proprio imbuto. È giusto il tratto rosatese della Valsugana al primato dei sinistri, anche con esito mortale. Un amaro primato che non possiamo condividere, perché naturalmente i dati ce li abbiamo. I dati ce li abbiamo, che sul territorio comunale, le strade comunali non abbiamo incendialità. Abbiamo lavorato molto, impianato molto per la sicurezza stradale, la sicurezza dei pedoni. Il problema è la statale. Statale è che abbiamo un contratto, un accordo fatto con Regione, RFI, che riguarda praticamente la sicurezza, il bypassare il centro di Rosà. Abbiamo 25.000 veicoli giornalieri, di cui un terzo fatto da 8 articolati. Per cui è un problema serio, un problema che assieme alla Regione stiamo affrontando, ma che però da anni stiamo veramente lavorando per premere e risolvere questo problema. Del resto noi a breve avremo un intervento qui nel centro di mettere dei parapretti a sicurezza dei pedoni, ma il problema del statale, che non è competenza del Comune, rimane. Di questo problema si parla da decenni. Negli ultimi tempi la situazione è decisamente peggiorata. È un problema annoso, è un problema che si è intensificato, soprattutto con la rotatoria che hanno fatto all'ingresso della complanare, che abbiamo più volte evidenziato in Regione, RFI. Abbiamo evidenziato tutti gli enti, anche la provincia, perché le complanare sono di competenza della provincia, per cui tutti gli enti sono correnti. Adesso aspettiamo delle risposte, noi ci siamo. Abbiamo messo in campo anche degli interventi con finanze proprie, pur di dare una mano a risolvere questo problema.